Ma direi assolutamente sì, anche perché come Urban Center Salerno siamo in linea con gli altri Urban Center a livello nazionale, per occuparci ovviamente di pianificazione territoriale, ma non solo, di paesaggio, di arte, cultura, diritto eccetera. È un vuoto che cercheremo in qualche modo di coprire, data anche la crisi della professione tecnica o delle professioni tecniche in generale, e quindi vorremmo riattivare anche dei momenti di dibattito che ora lo diremo anche in sede di conferenza stampa, non per essere alternativa all'ordine professionale o agli ordini professionali, ma sicuramente di supporto. In termini chiaramente di partecipazione con tutte le realtà che eventualmente si muovono sul territorio e per quanto ci riguarda anche nel rapporto privilegiato con gli enti, quindi anche attività di supporto gratuito, ovviamente è un'associazione senza scopo di lucro, per cui ci aspettiamo proprio per questo un grande sostegno da parte degli enti locali, ma anche delle associazioni di soggetti attivi sul territorio. Ma le forme sono tante, a partire anche da iniziative di tipo culturale, che possono essere i convegni eccetera, ma anche workshop e quant'altro possa essere di sostegno nell'attivazione di momenti di compronto. Ma non solo, noi pensiamo di essere promotore anche di concorsi di idee, piuttosto che di rapporti diversi, in termini assolutamente, quando occorre anche critici, ma sicuramente propositivi. Noi abbiamo bisogno per esempio di una legge sull'architettura che altri paesi hanno, ma che l'Italia è notevolmente indietro e attiviamo per questo anche dei meccanismi di collaborazione con gli altri urban center, in modo particolare con quello di Milano, anzi approfitto per salutare il collega Spaggiari, ma anche Torino, Bologna, so che si stanno muovendo in maniera assolutamente molto operosa. Ovviamente Salerno non poteva mancare a questo appuntamento, la regione Campania diventa interlocutore anche essenziale, per cui attendiamo che subito dopo la presentazione di oggi vi siano tante opportunità di un dialogo istituzionale dalla regione alla stessa provincia, che anzi approfitto per ringraziare per la grande disponibilità che ci hanno dato oggi per metterci a disposizione questa sala. Il presidente della provincia sappiamo è un nuovo eletto e anche un collega, quindi il migliore in bocca al lupo per tutta l'attività che magari potrà fare. Noi su questo contiamo, quindi relazioni, rapporti e partecipazione.